S.A. Comanni Benito, si accomodi prego signora Comanni, si accomodi prego, sieda pure lì, guardi verso, si giri verso di noi, per favore, dia le sue generalità, intende consentire la ripresa, no, quindi niente fotografie né riprese televisive al signore. Vuole dare sue generalità per cortesia? A Comanni Benito, nato a Montespertoli, 168.925, residente a Firenze, in via Camillo Barni, 58A. Benissimo, quella formula dove è andata a finire, teniamola lì per favore, grazie, teniamola sul tavolo. Grazie, vuol leggere quella formula? Sì signore. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol rispondere per cortesia alle domande del Pubblico Ministero? Sì signore. Signore Comanni, lei conosce il signor Pacciani? Io l'ho conosciuto tramite la televisione. Prima non l'aveva mai visto? Non come Pacciani. E come lo conosceva prima? Dunque, io quando mi sono accorto in televisione che c'era questa trasmissione, mi sono messo a guardare, è stato nel 92, in primavera. Una trasmissione nella quale c'era la figura del Pacciani, si vedeva? È stato presentato dal Tg3 come Pacciani agricoltore di mercatale indagato per i diritti del maniere. Beh, allora lei cosa si ricorda? Io mi sono accorto che quella figura l'avevo già vista ed esattamente corrispondeva all'uomo che a mercatale Valdipesa, l'avevo incontrato per caso in casa Ricci, mi aveva invitato e poi condotto a vedere una casa che diceva di avere acquistato per quelle bambine, signori, volendo logicamente riferirsi alle proprie figlie, ed aveva l'aria del tenero padre di famiglia. Lascia i commenti, non la faccia, riferisca semplicemente io. Sì, signore, va bene. Fu quindi un'occasione, e lei come mai andò con questo signore? Così per cortesia? O c'era un motivo di interesse? Come mai andò? In via Sonnena 68? Io avevo due quartieri in vendita, liberi, completamente liberi, con giardinetto anche, e ogni tanto quando avevo dei probabili acquirenti mi recavo sul posto per farli vedere e iniziare la contrattazione. In una di queste occasioni conobbe un signore che poi in televisione ha fatto due più due per intendo. Esattamente, ma la signora che l'aveva in casa non me lo presentò. E né lui si presentò? No, né lui si presentò. Comunque è sicuro che è il signore che è poi sul banco degli imputati? Sicurissimo, non ho nessun dubbio. Si ricorda per caso se quella figura o questo signore le ricorda qualche altro episodio? Io pensai che effettivamente così, in senso naturale, siccome si parlava della zona di Mercatale, che forse poteva essere un guardone che avevo avvistato nel bosco. Ecco, ci vuole raccontare questi episodi e poi come mai fa questa similitudine, se non non capisco mai. Ci racconta questi episodi e poi come mai, in modo naturale, lei collima le due persone. Si signore. Dunque, io ero con una signorina a bordo... Questo in che epoca, scusi? Questo entro il 22 febbraio del 1981. Come mai è così sicuro? Perché io ho guardato, e se no ce l'ho anche qui, la ricevuta di scarico dell'automezzo del Ford colore avorio, che ho consegnato esattamente il 23 febbraio del 1981 alla commissionaria Fiat, Scotti e Picone, qui in Firenze, ritirando un altro veicolo. Quindi lei dice, siccome ricordo un episodio che aveva quel furgone, questo episodio è antecedente, perché in quella data lì l'ho venduto, è così. Sì, signore. Allora ci vuole far capire cosa avvenne in questo episodio che lei ricorda, questo furgone. Subito, signore. Dunque, stavo parlando con questa signorina... Dove eravate, mi scusi? Eravamo sulla strada che dal pian del Melograno si dirige verso Luiano e quindi verso il ponte di Cappello. Siamo in comune di? Comune di San Casciano-Valdipesa. Bene, grazie. Era giorno o era sera? Giorno, signore. Giorno. Vedi una piazzuola dalla parte opposta rispetto al senso di marcia, cioè andavamo verso Luiano. Allora feci una curvetta, tu entrai in questa piazzuola. Questa radura, una piccola radura, era compresa fra il margine stradale e l'inizio della vegetazione boschiva. Mentre parlavo con la signorina, vedi un uomo nel bosco emergere all'improvviso dalla vegetazione. E subito mi preoccupai naturalmente di vedere un po' com'era vestito. Posso dettagliare? Dettagli, se lei se lo ricorda così bene. Benissimo. Allora. Signori, per favore, silenzio. aveva un berretto munito di visiera che come modello, ma non come colore, poteva un po' avvicinarsi a quelli in dotazione alle guardie del corpo forestale dello Stato. A lei li dette quell'impressione lì? Guardia di finanza, sì, come modello, ma non come colore. Questa aveva la visiera alzata. Cioè verso l'alto. Non... Verso l'alto. E poi, sotto questa visiera alzata a fondo scuro, campeggiavano sul volto roseo dell'uomo degli occhiali che a colpo d'occhio ritenni a lenti chiare, ma poi, guardando un po' meglio, mi sembrarono del tutto sprovvisti di denti. Così sembrò a lei. Sì, così sembrò a lei. Allora, cosa... Stavo vedendo che cosa faceva questo uomo. La persona la vide o vide solo questo volto? No, no, adesso continuo. Prego, prego, continuo. Mi scusi se è un problema. C'è l'acqua di presenze, per favore. Silenzio, fate silenzio. Aveva, volto rosio, collo di tipo taurino, aveva anche un giubbotto di tipo impermeabile, tipo comune, color beige. Sul momento non riusciva a vedere altro, anche perché mi preoccupavo di cosa faceva quest'uomo, no? Quindi lei lo vide per qualche frazione di secondo o lo osservò per un po'? Lo osservai, ma non per tanto, perché mi preoccupavo del movimento, anche perché non stava fermo. Cercava, faccia conto che questo sia il furgone disposto sulla coordinata ovest-est. Cercava, venendo davanti, di aggirare in parte il furgone in maniera da portarsi dalla parte dello sportello Girava intorno al furgone? Dove c'era la signorina. Dalla parte della signorina? Sì, signora. Cercava di portarsi da quella parte. Beh. E sfrecciava abbastanza bene, tra le scuole. Allora io ho miso in moto il furgone, convinto di dovermi allontanare subito da quella zona, e condussi il furgone a cosa? 469. Ceder, ma com'è preciso, signor? Com'è mai? Lei poi si è rimesso a ricostruire... Questo l'avrà misurato dopo, no? Sono un esperto in topografia. Eh, vabbè, dopo quindi lei si è rimesso a ricostruire la zona. Sì, signor. L'ha fatto dopo questa operazione. Eh, allora la possiamo tralasciare. Poi ce l'ha... L'ho fatto molto tempo dopo. L'ha fatto molto tempo dopo questa operazione di capire dovere. Sì, signor. Benissimo. Veniamo al fatto. Questo signore che lei dice aveva queste caratteristiche, gira intorno al furgone, lei, diciamo, si spaventa, oppure non ne vuole... Ma spaventare... Non si è spaventato. A questo punto limitatamente. Limitatamente. Lei piglia e dice, me ne vuoi per fatti mie. Bene. Vi allontano. E si porta da un'altra parte. Al di là della quota, dove siamo in queste parti? Al di là della quota, proprio sulla quota, c'è uno stradello che con senso di marcia detto, cioè viaggiando verso Panzano, si apre subito sulla destra e si inoltra nel bosco questo stradetto. Prima è pianeggiante, poi tende a salire. Ecco, proprio nel punto dove tendeva a salire... Lei si ferma. ...fermai il furgone. Vabbè. Poco tempo dopo, ho sentito arrivare un motorino e guardando nello specchio retrovisore, ho inquadrato lo stesso soggetto che avevo visto prima, che era alla guida di questo motorino di colore rosso ed aveva ruote raggiate. Senta, e che tipo di motorino lei non l'ha visto al di là del colore? Ma un ciclomotore, insomma, non era una moto, era un motorino. Sì, sì, un ciclomotore, un motorino leggero, non una motocicletta giapponese. Benissimo, un motorino. Fatto per fare una distinzione. L'uomo dopo aver disposto il motorino dalla parte opposta rispetto allo stradello dove ero entrato... Lei tutto questo lo vede nel retrovisore o lo guarda? L'uomo dopo aver disposto il retrovisore, benissimo lo vede. Lasciò il motorino, poi attraversò con magnifica disinvoltura il tratto stradale. Ecco qui il primo motivo di allarme. Guanti neri. Ci aveva dei guanti neri? Sì, signore. Guanti neri, molto probabilmente di gomma o di plastica, quello non lo so. Aveva dei pantaloni color sabbia e scarpe da lavoro. E come mai, scusi, lei ebbe timore per i guanti? Sì, eh. Vabbè, andiamo avanti. La cosa insolita. Insolita, ecco. Non faceva freddo, non faceva freddo. Aveva sempre gli occhiali, i soliti occhiali. E il solito appello? L'abbiglamento già desultato. Dopo aver attraversato questo nastro stradale, appena mise i piedi nel bosco, sembrava diventato un altro soggetto. Cioè? Aumentò l'andatura, procedeva più rapidamente, dritto verso il furgone, con il ventre proteso verso il terreno. Veniva avanti come un gatto. A questo punto, lo dico perché non l'avesse provato, quanto sia capace di ragionare velocemente la mente umana, se un soggetto avverta un certo pericolo. Per lei sembra un pericolo, lo vedo. Valuti la situazione. Va va. Il ragionamento che riuscì a fare, mentale, fu questo. Il guardone conosce bene la zona, ed è per questo che ha potuto rintracciare rapidamente il furgone. Fece tutti questi ragionamenti. Velocissimi. Velocissimi. E poi cosa fece? Eh, per metà, eh. Prego. Ci sarà da temere qualcosa di peggiore, se potrà raggiungere la cabina. Quei guanti, non fa freddo, pericolo, discendere e prenderlo a sassate. Lei pensò questo? Sì, signore. Discessi dall'automezzo, raccolsi dei sassi per terra, ma non è che lo attesi, gli andai incontro deciso anche, scagliandoli questi sassi. Perché ormai ne ero infuriato. Quando questo soggetto sentì arrivare i sassi, si alzò in piedi e allora ricontrollai tutto l'abbigliamento, subito. E rimase anche bloccato per qualche istante, così. Ebbi paura in quel momento che potesse uscire un'arma, ma non ne impugnava. Non c'aveva nulla, c'aveva questi guanti. Ebbe ad estrarne, no, non ne impugnava. Anzi, si volse indietro, dopo avermi consegnato questa immagine, e se ne andò a riprendere il suo motorino. I sassi avevano fatto effetto. Il patti verso Mercatale. Ok. E quindi lei se ne andò o rimase lì? No, io me ne andai, tornai a Firenze. Senta una cosa, questa figura che lei ci ha descritto, ora le dice qualcosa? Pacciani. Non ho altre domande, grazie. Non ci sono problemi. Ma aspettavo questa domanda, lei. Ma aspettavo questa domanda. No. E come no? Come l'ho trasformato? E come no? Ma come non me l'ha mica detto. E come no? Comunque, non ha fatto una domanda, caro io. Stia tranquillo, signore. Va bene così. Non ho altre domande. Prego, avvocato Colau. Prego, scusi, vuol precisare che ore erano? Ma circa le 15.30, signore. Pieno pomeriggio di sole, ho ragione di ritenere che molto probabilmente fosse sabato. Perché il sabato e la domenica io andavo a far vedere i miei quartierini che avevo in vendita. Erano liberi, quindi avevo molte probabilità di negoziarli. Ed avevano anche un po' di giardino, di ero. Giardino. Piccolo terreno. Senta, scusi, riguardo gli occhiali. Come poter ritenere... Assenza di riflessi, signore. Fenomeno fisico molto noto. Assenza di riflessi sulla superficie vetrosa. Completamente. Senta, scusi, io noto che lei ha delle particolari capacità di rilevare fatti e di ricordare le cose. Anche topografiche, direi, il fatto di aver accertato a che quota era in un secondo tempo il livello della macchina in cui si trovava. In base a quale esperienze poggiano queste sue conoscenze? Ecco. Sono cresciuto nell'area del diritto positivo, nelle scuole civili e militari del nostro paese e ne vado orgoglioso. Va bene, a questo. La ringrazio molto. Grazie. Signori, avete altri? Signori avvocati di parte civile? Avvocata, si è suonata avanti. Benissimo. Avvocato Fioravanti? Sì. Prego. Signora Comanni. Professore. Dottora Comanni. Professore, buongiorno. È stato il mio insegnante, ottimo insegnante, uomo di cultura ed è un galantone. La ringrazio, la ringrazio, la ringrazio, ma erano tempi belli quelli, era prima dell'81. Sì, sì. Era prima dell'81. Perché è 69, 69, 70. Erano belli perché io mi sono sposato nel 69. Senta un po', è parente di Mussolini. Siamo alle ricorrenze. No. Allora, benissimo. Volevo chiedere... Veniamo a noi ora. Sì, sì, veniamo al processo. Volevo chiedere se lei è parente di Mussolini. Non so se sia pertinente la domanda. No, voglio chiedere se è parente di Mussolini. No, chiedo scusa. Prima mi spiega perché questa veramente... Io al pubblico ministero non devo spiegare niente, lo spiego alla Corte. Io chiedo che le domande non pertinenti magari le evitiamo. Tra l'altro questa o me la spiega prima o se no davvero non è pertinente. Sconfiniamo le situazioni politiche, signor Presidente. Diciamoci sopra. Perché non di Ornella Muti, non lo so. No. Ci sarebbe un'inversione. Marta, Marta, finita la ricreazione, per favore. Ecco, lei mi dice che nel 1981... Sì, signore. ...vide il 23 di febbraio... Ho detto, scusi, mettiamolo come il limite superiore, fino al 22, perché il 23 è stato consegnato all'automezzo. Se vuole, avvocato, posso presurre la dichiarazione di responsabilità. Quindi l'automezzo veniva consegnato di domenica? No, perché se il 22 di sabato... No, perché se l'abbia consegnato l'unico, questo no, è stato... Allora, allora, va bene. Quindi forse poteva essere un guardone che avevo visto nel bosco. Questa è una sua affermazione. Forse, forse. Come deriva questa affermazione sua, localizzata il 22-23 febbraio dell'81? Da che cosa? Da quale convinzione? Ho venduto automobili per 25 anni. I guardoni li conosco, perché molte volte, quando provavo le macchine, li sono trovato circondato. E sempre sono disceso e li ho mandati via così parlando. Lei per caso andava a provare le macchine nelle stradine sterrate, in mezzo ai boschi? Le provavo dappertutto perché vendevo anche i fuoristrada, avvocato. Ah, benissimo. Sono stato il più grande venditore di automobili di Firenze, come soggetto dipendente. Se c'è qualcuno qui che può mentirmi, lo faccia pure. Vedremo quante ne avrà vendute. Sì, ma lei deve rispondere alle domande che faccio io, non alle sue, non tenere molto ad allargare il campo. No, no, professore, lei risponde. Ecco, lei risponde alle domande. Dunque, lei mi ha detto che questo signore, che per me non è Pacciani, ma per lei è Pacciani, questo signore, e non è detto, io ho una... Ma c'era quel giorno lì? Quel giorno lì per me non era Pacciani. Per carità, per carità. Non è ancora riconosciuto. Silenzio. E se no, mi... Suo professore. Studi, professore, io l'ho riconosciuto in televisione, quel giorno lì non sapevo che era Pacciani. Ma capito? Ma poi, dieci anni, un salto di dieci anni indietro, lei ha collegato, era Pacciani. Perché non si ricorda che alla scuola mi chiamavano Pico della Mirandola? Oh, bella, vai. Lei, certo, con queste domande non mi fa essere più professore suo. No, no, per carità, no, no. Però, inizialmente, questo signore è una persona che offre dei riscontri per me. Per carità. Dunque, lei ha notato bene... Poi sarà tutto da valutare, eh. Sì, sì, ha notato bene che pantaloni color sabbia, berretto con visiera tipo guardiaboschi o guardiacaccia, occhiali, occhiali, probabilmente senza lenti perché mancavano di riflessi. Esatto. In quante frazioni di secondo lei ha potuto constatare questo? Il motore di diesel non parte subito, avvocato. La ringrazio delle risposte avute, grazie. Certo. Avvocato Bevacqua, silenzio, per favore. Senta, lei che è il Pico della Mirandola secondo? Mi chiamavano, non è che lo fosse. Non è che lo fosse. Mi amico, non parente di Benito? Non parente, mia madre si chiamava Peschi e mio padre è a comandi. Ah, no, credo che il professore ha detto che... Andiamo avanti, andiamo avanti, le domande. Ho una grande stima per lei, ma non mi faccia più. Mi raccomando. Mi dirà che mi chiamano Rosario. Voi sono Benito e mi chiamo Rosario. Va bene. Io c'ho quattro santi dalla mia, lei ce n'ha uno solo morto. Allora, allora, al di là di questo, lei so che è un ottimo venditore, l'ha detto lei. Di automobili. Di automobili. Le ha vendute tantissime. Lo ero, sì sì. Quindi qualche volta vendeva qualche macchina che non era proprio... Ma scusate, la Pertinetti... Aspetta, l'ha detto lui. Sì sì, no, qualche macchina non l'ha detto. Non l'ha detto. L'ha venduto tantissime macchine. Fuoristrada, ha detto dei fuoristrada. Certamente, ha venduto tante macchine. Avvocato, ha detto per la verità dei fuoristrada. Anche dei fuoristrada. Anche dei fuoristrada. Non macchine che andavano fuoristrada. Fuoristrada. Non lo so. Io volevo arrivare a questo e lei mi ha preceduto, Presidente. Mi ha venduto moltissime. Quindi lei era un abilissimo venditore. Ma lo ero. Sì sì. Lo ero. Quindi lei vendeva parlando. O no? Scusi, vendeva? Magnificando la sua merce. Dicendo che questa macchina è bellissima, ottima, lo chassi va bene, non è stata abbattuta. Se non lo era abbattuta, se no... Qualche volta se lo era, diceva ma è stata abbattuta, ma è stata messa bene. Insomma, vendeva benissimo. Da Brandini eravamo molto seri. Se era urtata, la vendevamo per urtata. Comunque, lei era una persona che vendeva bene le macchine. Sì sì. Lei dice di avere fatto questa dichiarazione perché? Lei lo dice. Ma perché? Come? Quando la fa la dichiarazione? Come si rivolge? Chi la chiama? Perdoni, a quale dichiarazione si riferisce? Queste su cui il Pubblico Ministero ha fatto le domande. Può rileggere la notte? No, vuole sapere semplicemente l'Avvocato. Ah, l'interrogatorio che ha fatto il Dottor Vigna, il Dottor Canetti. Sì, il Dottor Vigna dopo e prima, nel febbraio 1993, dal credo la SAM, sa cos'è la SAM? Sì sì, squadra, non ti mostro. C'è il genere in questura, guardi. Oh, ora si spiega tutto, va benissimo. Allora c'è il genere in questura? Si spiega tutto. No, no, assolutamente. Ma che scherzo? Lo spiega lei. Lo spiega lei, Avvocato. Ma l'ha detto lui, non lo sapeva. Sì, certo. Senta, mi dice questo. Sì, c'era di così. Meglio di così. Certo. Dunque, c'è il genere in questura, quindi a quest'ora, in questura lei che fa? Quando mi ha interrogato... Eh, la SAM. Mi ha fatto questa, mi ha fatto questa. Come va? Glielo dice a suo genere mentre mangiate la pasta scioglie? Mi hanno convocato. L'hanno convocato. Perché? Perché il signor Pacciani aveva fatto una scioccolta. sciocchezza aveva segnato un numero di telefono che corrispondeva a quello di mia sorella ma che non era più in elenco da diverso tempo. Ma perché sarebbe una sciocchezza questa? Mi spieghi la sciocchezza. Forse facciamogliela spiegare, se no non... Perché? No, io ci sto spiegando, ma sto chiedendo perché... Perché teneva questo numero che non era più in elenco da tanto tempo. Eh. Per quale ragione? Questo lo sa lui, non lo so io. E chi gliel'aveva dato? Ah, non lo so. Se non era più in elenco? Eh. Chi gliel'aveva dato? Ma aveva avuto lei a che fare? Pacciani per cortesia non faccia né Versace né Oltraggio... Guardi, guardi, i tempi passati sono passati. Eh. Va bene? Silenzio, silenzio. Non ho visto cosa ha fatto. Lei Pacciani sia buono. Fatto così. Fatto così. Guardi, se... Ma... Io non l'ho vista. No, ricorda Pico della Milano. Però la faccio allontanare se ci riprovo. Allora, senta, lei ha detto, lei ha detto esattamente, quindi a un certo punto hanno fatto questa ricerca su di lei, hanno visto che lei aveva questo telefono prima... Sono risalito. E hanno ricollegato, hanno ricollegato, penso, questo numero di telefono alla data nella quale lei pare che abbia incontrato in quel periodo il signor Pacciani per questi quartieri, o no? Non lo so, le posso dire questo perché ho controllato, perché io avevo un vecchio elenco dell'83, l'ho guardato proprio in questi giorni. Nell'83 quel numero di telefono non c'è già più. Quindi può darsi che fosse nell'82. L'aveva preso prima. Chi le l'aveva dato? Ma scusi, lei non ha detto che aveva conosciuto il Pacciani prima dell'83? No, signore. Eh, scusi. Ha capito molto male. Ah, no, ho capito male. Io le ho detto che ho conosciuto Pacciani alla televisione durante la trasmissione del 1992, primavera, di G3 Serale. Ho capito. Ma lei aveva detto anche che aveva conosciuto Pacciani per gli appartamenti alle bambine, o no? Nell'81 sì. No, e quindi l'81 si sa, a meno che lei sa tutto, anche sull'aritmetica, si sa che l'81 viene prima dell'83, o no? L'81 viene prima o no? Ma io non ho mica controllato quando è stato all'assistica, quando è stato arrivato. Lei ha detto, suggestionato, perché lei sa vendere molto bene la sua merce, ha detto che nell'83 lei ha confrontato e nell'83 il suo numero di telefono non c'era più nell'elenco. Però lei, signor Pacciani, l'ha conosciuto nell'81. Se l'ha conosciuto nell'81, lei l'ha controllato. Ha preso il numero quando c'era, scusi, avvocato, ma si tirava la zappa su piedi lei. Ma quale zappa, amico? Guardi, io non so zappare. No, anche perché per me il terreno purtroppo è troppo lontano, sto essendo molto alto. Senta, abbia pazienza, lei ha detto nell'83. Ha visto che nell'83 il suo numero di telefono non c'era più. Nell'81 c'era. Non il mio, scusi. Era un numero di telefono. Perché mi dice che ha fatto un errore, Pacciani? Perché ha tenuto quel numero che non serviva più a noi. Ma ha tenuto perché è stato in galera per tanto tempo, scusi. Ha tenuto. Oh, e gli hanno rovistato tutto, anche tutto gli hanno rovistato. Va bene, allora. Non l'ho ordinato io. No. Va bene, ma lei è contiguo. Dunque, allora, al di là di questo, io ho conosciuto in passato, ma non sapevo che fosse Pacciani. Lei ha detto questo. Per quanto riguarda la mia conoscenza con Pacciani, Pietro, voglio preliminamente chiarire che è il personaggio di cui parlano attualmente le cronache per le indagini sul mostro di Firenze. Io l'ho conosciuto in passato, ma non sapevo che fosse il Pacciani. Esatto. Va bene? Oh. Lei dice, ad un certo punto, che questa signora, questa signora, si può trovare questa signora o signorina? Adesso di sì, si chiama Assunta Ricci Vedova Mancini. Questa signora chi sarebbe? Era la mia confinante, io non la vedo più da tanto tempo, però. No, ma la signora che stava con me nel Furman. Ah, la signora si chiamava Irene Damiani, è deceduta. È deceduta? Sì, che io sappia sì. È deceduta? Quindi non si sa, si deve cercare... L'avvocato è morto. Ma è deceduta. È deceduta. È morto e possiamo fare dei miracoli. Silenzio, silenzio. È deceduta. Non siamo a teatro. Senta. Lei ha detto che questo giorno era con questa persona, a un certo punto ha visto questo tizio, che aveva il collo taurino come tanti, anche lei, anche io. che aveva il collo taurino, eccetera, eccetera, e fu in particolare, lei si... così, gli rimase impresso il fatto che avesse una specie di cappello, eh? Un berretto, detto con visiera. Con visiera. E degli occhiali... Che mi sembra erano sprovvisti di lenti a montatura scura. E non le sembra... E banite o materiale simile. Ma questo si mostrò parecchio davanti a lei. Come dice? Si mostrò parecchio il volto davanti a lei, lo mostrò abbastanza. Teneva a consegnarmi quell'immagine. Chi? Secondo me. Lui? Sì, signora. Era un po'... Non lo so. Teneva a consegnarmi quell'immagine. Perché è successo la prima e la seconda volta, quindi lo deve dire lui, perché voleva che memorizzasse... Lui chi? Il signor Pagiani. Perché voleva che memorizzasse le immagini? Perché il signor Pagiani, scusi? Come fa a dire quella persona... Perché voleva... No, perché... Come fa a dire quella persona... Lo diciamo... Lo diciamo oggi, scusi. Lo diciamo oggi. Ah, lo dice lei oggi. Lo diciamo oggi. Perché lei, quando fu sentito... Quando fu sentito... Dal... Quando fu sentito... Dallo stesso dottor Pigna... Lei disse questo... Nel tempo, prima di quando il Pagiani portò a vedere una casa in piazza del Popolo Mercadale, dicendo che l'aveva acquistata per quelle bambine, ripetendo più volte questa affermazione. Esattamente. Mi si fa presente che allora io avrei già dovuto... Perché il pubblico ministero ha paura. Dice, ma questo che dice? No, è serio. Non ha paura di nulla, caro lei. I pubblici ministeri non hanno mai paura di nulla. È serio. Siamo noi che abbiamo paura di nulla. È serio. Ma davanti avvocato di acqua. È serio. E allora ci proseguiamo, signori, per favore. Mi si fa presente che allora io avrei già dovuto riconoscere nel guardone il Pagiani. Il pubblico ministero, seriamente, come dice, sostiene e gli do ragione, ma dice come mai questo all'ultimo momento dice questa cosa. Ma le dico francamente che questo non avvenne e che il collegamento fra il guardone ed il Pacciani io l'ho fatto quando ho rivisto quest'ultimo in immagini televisive riprodotte sul giornale. Controllavo tutto, sicuramente. Sì, ho capito, scusi, lei ha detto questo al pubblico ministero. Non è che l'agenda a me, capito? Ma dopo le spiego perché? Dopo le spiego perché? Dopo 10 anni, lei fa questo collegamento. Dopo le spiego perché? Lei la domanda la faccio io e lei mi risponde. Sì, sì, ma dopo le spiego perché se vuole che le spiego. Ma io non la voglio spiegare. Io l'ho fatto quando ho rivisto quest'ultimo in immagini televisivo riprodotte sul giornale e in particolare fece il collegamento quando in taluna di queste immagini io lo rividi con un berretto con visiera portata rialzata. Che mi richiamo alla memoria? L'uomo visto nei dintorni di Crespelli. Cioè lei sembra che al pubblico ministero dica alle contestazioni legittime del pubblico ministero. Come fa lei all'ultimo momento? Va bene che lei ha in casa un dipendente della questura. Come fa lei all'ultimo momento, lei all'ultimo momento, così dopo 10 anni a ricordare il Pacciani, lei dice che ricorda questa persona perché ha visto il Pacciani con un cappellino in su. Conferma questa circostanza? Dunque mi permette di chiarire? Conferma o non conferma? Mi permetta di chiarire? No, conferma questo che lo è un avvocato. Non arriva nemmeno a capire. Se non mi dà nuovo rischio i casi, scusi. Allora, il pubblico ministero e il procuratore capo, dottor Pierluigi Vigna, mi hanno fatto questa domanda ma io ho detto subito che avevo fatto due segnalazioni già nel 92 al comando dei carabinieri, quindi allora il dottor Vigna cosa ha detto? Ha tenuto una copia di questo? E io ho detto no, perché non ho tenuto una copia? Perché con i carabinieri ci sono stati insieme in caserma? Non ho bisogno di tenere copia. Questa ha ragione. Quindi questo accadeva nel 93 mentre le segnalazioni erano state fatte nel 92. Siamo d'accordo. Va bene, nel 92 lei fa questa segnalazione. Dopo aver visto il berretto del pacciano. Dopo aver visto la trasmissione televisiva, dico che questo è l'uomo che mi ha portato a vedere la casa di quelle bambine. E domando ai carabinieri se poteva esserci qualche collegamento con il guardone che avevo visto a mercatale, così, così, così. Non ho avuto risposta. attraverso questo cappello perché lo riviti di queste mani, lo riviti con un berretto con visiera portata rialzata che mi richiamò. Lei che è il pico della Miran alla memoria, pico, l'uomo visto nei dintorni di Crespello. È vero questo? Sì, anche dopo. Qui, praticamente, alla sua memoria, alla sua memoria portentosa, richiama questa sagoma di questa persona un cappellino con la visiera. No, non soltanto. Lei così a te. Non ho più domande, grazie. Sì, ma la fotografia non mettevo un cappellino, eh. Senta, signor Comani, ma lei oggi, con tutta sincerità e tutta coscienza, vedendo il pacciani di persona, sono passati tanti anni, eccetera, è in grado di confermare? Non solo sono in grado di confermare questo, ma sentite che cosa ha fatto Pacciani dopo che io avevo parlato di motorino rosso all'autorità giudiziaria ed anche di occhiali che mi sembravano sprovvisti di lenti. Nell'agosto del 1992, dopo che il dottor Vigna proprio l'aveva detto, dove ha messo questo motorino? Aveva un motorino rosso, lei? Aveva anche degli occhiali che si erano rotti? Poi c'era una terza questione, sollevata da un anonimo. Non sono io, se Pacciani lo vuol sapere. Allora, la terza... Senta, 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 ma noi guardiamo. Le sue considerazioni non ci interessano. Sono fuori della testimonianza. Sono fuori della testimonianza. Io le ho semplicemente domandato se, vedendolo oggi di persona, lei è in grado, è in grado, sono passati anni le fisionomie, ci cambiano, Simo, di confermare quel, diciamo, riconoscimento che lei avrebbe operato nelle circostanze che già sappiamo. Sì, signore. Io non ho altre domande. Nessuna grazie al PN. Può andare, grazie, signor Domani. Buongiorno.